Il 24enne è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e denunciato per tentativo di omicidio. A quanto si apprende, il 24enne avrebbe fatto ritrovare l'arma del delitto. Da una prima ricostruzione dei fatti, emerso che poche ore prima dell'agguato, Vaira aveva litigato con il figlio di Giovanni Latorre per questioni private, non riconducibili dunque a piste di indagini mafiose. Successivamente, il 46enne sarebbe intervenuto allo scopo di affrontare il giovane che davanti agli inquirenti si sarebbe difeso, sostenendo la tesi di un'aggressione e i suoi danni a colpi di coltello. La squadra Stato vince sempre, ha affermato il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice. Con soddisfazione ringrazio il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e tutte le forze dell'ordine per aver celermente chiuso il cerchio con l'arresto dell'autore sui fatti criminosi accaduti lo scorso 31 agosto. Andiamo avanti con una comunità più coesa che mai e che ha al suo fianco prefetture e chiesa, che hanno saputo stringerle la mano in un momento di smarimento e sconforto, ha concluso il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.